Presentato presso la sede del Lente Parco a Vallo della Lucania, il Cammino delle Due Primule, un'idea nata dalla volontà di creare una proposta turistica completa per offrire un'esperienza in grado di integrare la bellezza dei paesaggi, la fruizione del luogo e la conoscenza delle tradizioni e delle eccellenze del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, un collegamento tra montagne e mare che faccia assaporare il fascino senza tempo di questa zona di rara bellezza dell'Europa mediterranea. Va fatto un plauso agli ideatori e agli organizzatori di questo progetto che in effetti si tratta di valorizzazione di questa parte del Cilento attraverso questo percorso che lega la parte interna con la parte costiera. Lo dicevo poco anzi, ogni progetto che serve a valorizzare i luoghi, che serve a promuovere le bellezze naturali di cui ci possiamo pregiare come Cilento nel caso specifico, ritengo che sia una cosa importante e significativa. Per cui oggi anche questo ragionamento a volte si parla di diversificazione del concetto legato al turismo che non può essere solo quello balneare, di tanti tipi di turismo, quello enogastronomico, quello balneare, quello culturale e perché no? Anche quello legato al trekking come nel caso specifico, quello legato alla passeggiata se la vogliamo mettere o leggere sotto questo aspetto? Perché no? Io dico attraverso questo tipo di percorso si ha anche la possibilità di riflettere e allora un plauso ribadisco agli organizzatori, oggi mettiamo insieme queste due primule, ricordo che la primula di Palinuro è anche il simbolo del parco, quindi oggi attraverso questo progetto riusciamo a raccontare questa parte a sud della provincia di Salerno e ritengo che sia una cosa importante e significativa. Per diversi mesi abbiamo studiato il tragitto che potesse collegare due eccellenze naturalistiche del nostro territorio, commentano gli ideatori del progetto. Abbiamo tratto spunto dagli studi del professore Nicola Di Novella scoprendo che la primula auricula che fiorisce sul monte Cervati è la progenitrice della primula Palinuri, simbolo del parco nazionale del Cilento, vallo di Diano e Alburni, che fiorisce sulla costa di Capo Palinuro. Quest'idea che hanno avuto i ragazzi parte da questo spunto che è legato alla primula che è la primula auricula, che nasce ancora oggi sul Cervati, però poi in realtà nel passato in seguito alle glaciazioni è scesa man mano verso il mare, poi è rimasta sul mare, quando i ghiacci invece piano piano si sono iniziati a sciogliere nuovamente è mano mano salita verso la montagna. Una stazione di questa primula è restata sulle coste e quindi ha generato pian piano con delle modificazioni, ovviamente la primula Palinuri. Quindi diciamo questo percorso, questo itinerario tematico vuole raccontare questo percorso della primula, ma in realtà è il percorso un po' di tutte le popolazioni che hanno vissuto i nostri territori. Quindi un itinerario che non diventa solo trekking, un itinerario che da un lato diventa trekking, ma dall'altro lato diventa un nuovo modo di comunicare e di informare. Noi avevamo già immaginato di creare un progetto turistico che potesse mettere in collegamento due grandi attrattori naturalistici, come il Monte Cervati e il Capo Palinuro, quindi una proposta completa, un'offerta a 360 gradi che aiutasse i visitatori e anche le popolazioni locali ad affezionarsi e a conoscere l'essenza del Cilento, quindi i monti e il mare. Da questo è nata l'idea di creare il cammino delle due primule. Partiremo dal Monte Cervati per arrivare fino a Capo Palinuro, oggi che è il 21 marzo, quindi il primo giorno di primavera, proprio perché con la primavera sbocciano le nuove fioriture e sbocciano anche i nuovi progetti che speriamo possano arrivare lontano. Secondo noi è l'essenza di questo territorio, mette in contatto il mare con la montagna, che alla fine è quello che il Cilento rappresenta, dove hai un tratto di costa bellissimo delle montagne che sono ricche di biodiversità, ricche di popolazioni, di tipicità e quindi attraversando questo cammino, facendo questa camminata, uno riesce a scoprire tutto il Cilento, la cultura, la nuova astronomia e tutte queste essenze, tutta questa biodiversità.